un saluto a tutti i nostri avventori quelli che vogliono sempre parlare di pallacanetto vogliono arricchirsi continuamente con Basket2U a Porto A Plus e Sport2U abbiamo quest'oggi Davide Fumagalli che ieri ha commentato una partida della quale ci racconterà subito su Eurosport Ciao Federico, buongiorno a tutti insomma diciamo che hai commentato una partida non proprio di poco conto visto come è andata a finire No, direi proprio di no in attesa anche per come per come si era messa ovviamente parliamo della sfida tra Virtus Bologna e Pistoia che ha chiuso la venticinquesima giornata di Serie A nel posticipo di Pasquetta sì, incredibile come dici giustamente tu perché la Virtus era più 19 nel terzo quarto, più 15 all'inizio del quarto periodo quindi sembrava sostanzialmente in controllo poi insomma come a volte accade nella palla canestro le partite si riaprono per demeriti dell'una e per meriti dell'altra e Pistoia comunque con una serie di di triple e trascinata da Ryan Hawkins e Peyton Willis ha messo a segno un capolavoro di quelli importanti che probabilmente è soltanto l'ultima però di una serie di imprese di una stagione super della squadra di Nicola Brienza che ricordiamo ci sarebbe sempre una neopromossa però a Bologna ha compiuto l'ennesimo grande capolavoro di questa sua stagione ricordiamolo, sette vittorie in trasferta oltretutto ma non dimentichiamo che insomma sotto canestro non l'ha più fatta vedere a nessuno a un certo punto no no assolutamente lui ha fatto una doppia doppia molto molto sostanziosa e abbondante giocatore che comunque è in un ottimo periodo di forma però come dici giustamente tu è questa tutta la squadra che ha fatto ha fatto una una grandissima partita tra l'altro seguita da più di 400 tifosi arrivati da Pistoia evidentemente un po' se la sentivano c'era un po' di profumo di impresa anche perché Pistoia comunque quest'anno ha vinto al Forum contro Milano ha vinto a Casale Monferrato contro Tortona ha vinto a Napoli solamente per citare alcuni dei campi importanti dove ha vinto sette vittorie in trasferta su tredici partite è l'unica se facciamo diciamo eccezione delle prime quattro che ha un record positivo in trasferta quindi direi che più di così non credo si possa aggiungere sulla bontà del percorso che stanno facendo bontà del percorso che stanno facendo che per l'altro continua a portare nella zona del sette classifica sempre anche lì con Reggio Emilia che dovrebbe comunque essere favorita per il quinto invece in testa cioè Brescia che rimatta la sole e poi Milano Bologna Venezia e diventa sempre più intricata la questione diventa molto molto intricata tra l'altro Brescia resta in testa pur non brillando perché insomma dalla Coppa Italia in avanti la squadra di Alessandro Magro non sta non sta dando grandi certezze sembra forse un pochino stanca forse sta sentendo anche un po' la pressione nel gestire questo primo posto ha vinto una partita pazzesca a Varese nell'ultimo weekend ma in generale mi sta dando delle sensazioni appunto un po' di così un po' di fatica sta un po' arrancando però insomma quelle dietro si stanno portando stanno perdendo qualche punto e quindi per il momento ha il primato ricordiamo che domenica tra l'altro c'è Venezia Virtus quindi insomma sarà un'altra sfida che che potrebbe favorire appunto la stessa Brescia perché sappiamo insomma quanto diventa importante questo primo posto perché vuol dire poi avere il fattore campo sempre in tutti i playoff oltretutto ecco a parte il parlare di una sfida come Varese Brescia che si è trattata molto semplicemente di una specie di Niko Magno show 37 punti una cosa irreale completamente ma Niko ormai da quando è tornato in Italia è stato come liberato in certa sostanza da Varese e invece poi per quanto riguarda Brescia comunque anche un calendario non facilissimo perché Tortona è vero in casa Venezia è vero in casa ma poi tra spesso il Ramone Milano e poi l'ultima con Brindisi che si sta rivendendo no no assolutamente ma credo che da adesso in avanti non per banalizzare però sia un calendario difficile un po' per tutti abbiamo visto che in generale ogni giornata di campionato regala sorprese quindi insomma ogni partita diventa davvero difficile e complicata a sé settimana scorsa mi è capitato di commentare Cremona Venezia e anche lì sembrava una partita sulla carta favorevole per la Reier che invece ha perso questa settimana appunto Virtus Pistoia sembrava indirizzata e poi abbiamo visto com'è finita quindi ogni settimana possono davvero venire fuori delle sorprese anche perché insomma la corsa di playoff è aperta la corsa al primo posto è aperta ovviamente la corsa per non retrocedere anche se Brindisi e Pesaro sono un po' più indietro rispetto alle altre ma è aperta quindi credo che per forza di cose non ci sia nulla di scontato da qui alla fine non ci sia nulla di scontato e hai detto bene anche sulle difficoltà tant'è però che questa giornata sarà anche molto particolare perché le partite si sono concluse tutte sempre entro gli undici punti di divario che è il massimo che si è visto il Tortone a Cremona cinque vittorie in tre petta tra cui quelle di Venezia a Napoli quelle di Sassari a Brindisi quella di Milano a Reggio Emilia e le due che abbiamo citato e comunque altri due partite che sono state Treviso Pesaro e Trento Scafati che insomma sono state molto combattute sì sì assolutamente questo conferma secondo me anche la bontà di questo campionato perché comunque evidentemente i livelli si sono un pochino ristretti assottigliati anche se poi le prime quattro si sono staccate da tutte le altre però tolte le prime quattro secondo me c'è molto più equilibrio di quello che di quello che si possa pensare e comunque anche le prime quattro con Venezia e Brescia che ovviamente qualche inciampo l'hanno avuto e Milano e Virtus che chiaramente hanno il gravoso impegno dell'Eurolega possono venire fuori sempre dei risultati particolari abbiamo visto la stessa Virtus perdere a Pesaro o perdere in volata a Sassari la stessa Milano con qualche inciampo quindi resta aperto e equilibrato e quindi tutti i risultati diciamo così non nascondono chissà quali sorprese sono semplicemente lo specchio di un campionato che probabilmente è molto più equilibrato di quello che la stessa classifica possa far pensare hai toccato il tasto Eurolega e io tocco inevitabilmente la situazione che lega il basket dell'anno questa settimana particolare perché questa è la settimana del verbo italiano e però con Milano che è praticamente obbligata a vincere per conservare quel minimo di speranza di play che ancora ha perché stiamo parlando veramente di neanche il 10% di probabilità a questo punto Sì la sconfitta di Kaunas chiaramente è stata è stata una bella botta per Milano e quindi adesso diventa fondamentale e imprescindibile potrebbe anche non bastare come dici giustamente tu però è imprescindibile vincere contro la Virtus venerdì sera al Forum questo derby di Eurolega una partita che comunque non è secondaria per la stessa Virtus un po' per il prestigio e un po' perché la Virtus deve provare a prendersi quell'ottavo posto non può più arrivare settima però deve cercare di chiudere nella posizione migliore possibile perché vorrebbe dire garantirsi appunto un posizionamento migliore in chiave play-in quindi la squadra di Bunky non regalerà nulla e poi comunque anche per loro diventa importante subito così invertire la rotta perché dopo la sconfitta col Panatinei cosa è appunto quella contro Pistoia bisogna per forza di cose rialzare subito la testa anche perché poi come abbiamo detto 48 ore dopo anzimeno c'è la gara del Taliercio con Venezia quindi insomma non ci sono soste non c'è pausa per nessuno in verità però quello di Bologna è un problema che nasce da un po' più lontano perché in Eurolega ha vinto molto poco fin dall'inizio di gennaio e più in generale stanno avvergendo diversi problemi la Virtus perché comunque sembra che si sia persa proprio l'onda della prima parte dell'anno al di là del piano tattico quello sicuramente ce ne vuole parlare anche meglio però sia il piano tattico che quello anche proprio morale sembra un po' svanito ecco sì probabilmente infatti è molto diverso il record della Virtus tra il 2023 e il 2024 soprattutto a marzo c'è stato un calo evidente non c'è alcun dubbio io diciamo così semplificando un po' direi che all'inizio la Virtus ha anche overperformato un po' per l'entusiasmo portato da Luca Banchi ovviamente quando c'è un cambio di allenatore c'è anche quella scintilla quella scarica di energia nervosa di entusiasmo e tutte le cose sono andate bene le prestazioni di Lundberg vittorie in Eurolega arrivate in volata mi viene da pensare quella con l'Olimpia Cos quella con Barcellona in casa quella a Belgrado col Partizani insomma una serie di prestazioni che poi hanno aumentato anche a dismisura il morale viceversa nel 2023 secondo me questa squadra innanzitutto ha accusato un calo fisico è evidente perché comunque l'età media della Virtus è molto alta e quindi per forza di cose il calo di Schenghelia Dobric che c'è stato ad intermittenza problemi fisici amichi adesso comunque nell'ultimo periodo secondo me sono pesate tanto le assenze di Cordinier che stanno pesando tanto soprattutto in Eurolega l'atletismo e la fisicità di Cordinier è un qualcosa da cui la Virtus non può prescindere perché è il giocatore di maggior spinta da questo punto di vista e quindi sta venendo fuori un po' tutti i limiti di una squadra che poi ultimamente si è aggrappata molto a Marco Bellinelli però pur essendo un fuoriclasse ma stiamo sempre parlando di un giocatore di 38 anni a cui non si può chiedere di vincere da solo le partite quindi credo che siano un insieme di fattori ce ne sono sicuramente altri ho provato così a riassumere quelli che credo siano quelli più importanti fondamentalmente il fatto adesso è che a questo punto ci sarà questo è già certo l'ingrazione del play-in e a questo punto sarà il play-in che però avrà bisogno di affrontare se possibile la settima tavola perché dobbiamo ricordare anche il format del play-in che è sostanzialmente un po' come quello NBA cioè settima ottava si confrontano chi perde va ad affrontare la vincente nel confronto nona decima e quindi questo vorrebbe dire che se la Virtus arrivasse ottava riuscirebbe eventualmente a tentare di avere un solo confronto e anche un confronto migliore perché comunque dipende anche da lì il confronto perché chi vince il primo va con la seconda e chi vince il secondo va con la prima quella qual prima è il Real Madrid che ha dominato la stagione sì 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 assolutamente è stato il Real è stato al comando dall'inizio con un ruolino di marcia straordinario c'è poco da dire sono i campioni in carica sono la squadra più forte hanno avuto solamente forse quella mini crisi con quella serie di tre sconfitte di fila che poi è stata chiusa proprio vincendo da Bologna contro la Virtus direi che non c'è dubbio che siano loro i favoriti poi sappiamo anche che il format dei playoff ma poi soprattutto quello della Final Four su gara secca può regalare delle sorprese ma a maggior ragione loro mi sembrano una squadra difficile da battere anche in gara secca lo hanno dimostrato un po' per la loro storia un po' per tradizione un po' vedere qualcuno che non sia con la maglia blanca vincere vincere ancora il titolo però chiaramente la palla canestra è molto bella perché può regalare qualsiasi sorpresa a maggior ragione nella Final Four e quindi insomma vediamo le pretendenti non mancano cioè il Panathinaikos soprattutto mi sembra tra tutte quante le contendenti forse quella più attrezzata per provare a fare uno scherzo cambiando invece un attimo fase andando sul discorso nazionale è notizia di stamattina che Giulia Domi si sapeva che è andato negli Stati Uniti per incontrare Danilo Gallinari ma io sinceramente non credo che ci fosse anche solo il dubbio che Gallinari possa rispondere alla chiamata di Bozzeco qualora è chiamato e mi sembra anche abbastanza evidente nel senso che un preolipico senza Gallinari mi sembra un po' difficile da affrontare semmai la questione di Vincenzo che è stato sostanzialmente scartato dalla federazione da quello che risulta per evitare altri casi bancaero e invece sembrerebbe starsi complicando la questione di TrioBanks perché secondo la Perfina questa situazione andrebbe a finire più o meno nei tempi in cui bisogna consegnare la long list 24 alla FIBA quindi come può cambiare tutto l'assetto in base alle situazioni che possono evolvere ma io credo che queste sono sempre situazioni un pochino spinose io credo che bisogna ragionare come ha detto giustamente secondo me il Ct Pozzecco non sono sempre d'accordo però su una cosa invece sono in linea che secondo me questa nazionale deve pensare a prescindere dal discorso passaporti naturalizzati secondo me il gruppo c'è Pozzecco ha lavorato con questo gruppo ormai praticamente da due anni pieni e io non credo possa fare questa differenza sì chiaramente non ci sono dubbi che Dante Di Vincenzo sia un giocatore straordinario e che Eubanks che dal mio punto di vista è un giocatore mediocre però può dare una mano almeno a livello di muscoli e di centimetri sotto i tabelloni però io credo che l'Italia sia talmente abituata ad avere un assetto ad avere una sua chimica ad avere un suo percorso che deve andare avanti con questi cioè Pozzecco ha lavorato con questi si fida di questo gruppo è in totale sintonia con questo gruppo e quindi certo Danilo Gallinari poi vediamo anche il percorso che fa con i Milwaukee Bucks però in generale credo che Danilo Gallinari ci sarà ed è giusto che ci sia perché comunque ha sempre fatto parte di questo gruppo più Simone Fontecchio però credo che i giocatori siano questi e debbano essere questi poi eventualmente dopo il preolimpico e ci auguriamo dopo le olimpiadi forse si aprirà forse si aprirà un nuovo ciclo forse ci sarà un altro ct però poi a quello ci pensiamo però la priorità deve essere il preolimpico e deve essere questo gruppo soprattutto cioè intanto ci sono anche un sipari che hanno detto qualche giorno fa da Mero Sacchetti che voleva letteralmente dare la squadra in mano a Messina per le olimpiadi però giustamente l'hanno tenuto per le olimpiadi perché cioè cosa fa un coach cioè si cambia coach per le olimpiadi non avrebbe avuto neanche senso alla fine e invece per quanto riguarda sempre la nazionale si continua a girare intorno al discorso di Marco Bellinelli tu cosa ne pensi? Ma faccio lo stesso discorso dei per quanto riguarda i possibili naturalizzati quello che quello che sta facendo Bellinelli in questo momento ma in generale nelle ultime stagioni credo che sia strepitoso ribadisco per per l'età ma io non credo che si possa discutere Marco Bellinelli per quello che ha fatto in generale però io credo che bisogna un po' rispettare anche la decisione che lui stesso ha preso e come ho detto prima secondo me c'è un gruppo già formato non ha senso andare a stravolgere degli equilibri Bellinelli è un giocatore che per quanto sia un fenomeno però è un giocatore ingombrante da un certo punto di vista io non credo che si possa portare e poi come come viene reinserito è un po' complicato dal mio punto di vista e poi ribadisco non c'è nulla da dire sul giocatore Bellinelli però io non credo che si possa stravolgere degli equilibri che già ci sono e quindi io non lo convocherei Andrea ripeto Andrea Avanti con questa linea situazione Eurolega che sta diventando un po' diminuta non tanto non già per la ma per il dopo si dice che la da Berlino possa non avere la licenza per l'anno prossimo si dice si dicono tante cose e si dice anche che l'avete insomma in questo modo potrebbe comunque continuare a giocarla l'anno prossimo e francamente sarebbe merito perché ha dimostrato di poterci rimanere ha dimostrato di avere una progettualità nel poter continuare questo percorso europeo ah no ma certamente senza dubbio la Virtus si sta meritando sul campo assolutamente almeno l'opportunità di avere una wildcard faccio fatica a pensare che la Virtus non sia in Eurolega per gli stessi motivi ripetuti anche nella passata stagione un po' per la storia per per tutto quanto per le vittorie per il blasone come hai detto tu per la progettualità ma poi appunto quest'anno se lo sta meritando sul campo di restarci l'Alba Berlino chiaramente anche per i risultati potrebbe non rimanerci anche perché bisogna fare spazio a chi arriva dall'Eurocup e io mi auguro con tutto il cuore che sia che sia Paris Basket perché un po' per quello che hanno fatto a livello di progettualità di investimenti e poi perché credo che l'Eurolega si meriti una città come Parigi e Parigi si meriti una vetrina come come l'Eurolega soltanto a livello mediatico mi auguro e spero che ci sia Parigi come tra un anno ci sia anche Londra perché l'Eurolega ha bisogno di queste piazze bisogna un po' uscire dal concetto secondo me di insomma di avere le solite note ma bisogna un po' allargare questo vaccino e diciamo renderla ancora più mediatica perché l'Eurolega ha bisogno anche di questo London Lions che hanno già fatto la storia del femminile perché con la finale di è la prima volta che una squadra britannica gioca una finale europea in qualsiasi contesto a qualsiasi livello fra l'altro ritando al progetto di Coppa Europea ricordiamo ancora che c'è Varese che sta giocando la FB e giocherà la semifinale di ritorno dopo quella andata con il bacio di Taylor Kamenock Chris Krab Tony Taylor di coach Daniel Radonici insomma una buona squadra ma insomma le possibilità di andare in finale ci sono soprattutto con quest'ultimo periodo e soprattutto con questo Nico Mannion che a questo punto si deve apprendere non solo un posto da grandissimo protagonista del campione italiano ma riguadagna consenso anche per un futuro azzurro a questo punto vista la situazione Ah questo senza dubbio anche perché lui mi sembra lo stia ribadendo ogni volta che viene interpellato sulla questione cioè il suo legame il suo attaccamento alla maglia azzurra con discussione appunto si è indiscutibile ma lui stesso lo dimostra ogni volta che può come secondo me era stato molto sincero e questo va apprezzato quando l'anno scorso per il mondiale aveva così chiesto una pausa aveva bisogno di di staccare un'estate per concentrarsi un po' più sul suo gioco e sui suoi progetti personali poi ha sempre invece ribadito la volontà di esserci e credo che questa nazionale non possa comunque fare a meno di di incomenio non possa prescindere da questo in particolare ma in generale da lui come proprio come caratteristiche di giocatore e quindi lui sicuramente al preolimpico ci sarà non vedo controindicazioni da questo punto di vista anche perché l'anno scorso insomma probabilmente si sentiva anche in una modalità io in questo momento sentite io in questo momento faccio più danni che altro meglio se qualcuno che fa meno danni va al mondiale e così è stato invece quest'anno è fuori discussione appunto cioè potremmo rivedere veramente la versione del 2021 e ricordiamo anche come ha giocato l'olimpiare del 2021 con un malessere che poi gli ha condizionato la parte di stagione a Bologna e lì bisogna comunque dire che in quella condizione l'olimpiare è ancora più clamorosa di quello che uno si può immaginare ah no no senza dubbio infatti in quelle olimpiade era stato incredibile e si era comunque meritato anche come si può dire le pressioni che poi ha avuto dopo perché insomma proprio con quelle olimpiade lui ha portato l'asticella ad un livello che poi purtroppo per tutti i motivi che sappiamo non è riuscito a rispettare a Bologna con la Virtus però ecco se era arrivato con tutto quell'hype era giustificato da quelle olimpiade non ci sono assolutamente dubbi e a Varese stiamo rivedendo quel Nicomennion anzi probabilmente qualcosa di più perché comunque sono passati tre anni e c'è anche una sua maturazione e quindi stiamo stiamo certamente vedendo un un Mennion a livello 5 stelle e allora con questa chiusura salutiamo Davide Fumagalli lo ringraziamo per tutta la chiarezza negli argomenti per le opinioni che sono state anche particolarmente precise grazie a te Federico un saluto a tutti e un saluto a tutti gli ascoltatori di Back to You a Forte e Sport to You Grazie a tutti